Ancora una mattinata di caos e tensione per la questione ai parcheggiatori, striscioni fuori dal comune, poi fatti rimuovere dai vigili urbani, accusi all'assessore Mele, costretta tra virgolette a rispondere a voce alta nei corridoi. Come se fossi responsabile, staccaremmo una colpa a lui, a Roma sta succedendo qualcosa e colpa a lui. Lo scaricabarile finisce tutto addosso ai servizi sociali, a nulla valgono i chiarimenti dell'assessore che ha provato a spiegare in tutti i modi che il suo compito, la presa in carico, è stato svolto. Abbiamo fatto la presa in carico alle persone, dopodiché in base a quelle che erano le indicazioni date dal Consiglio, le indicazioni della delibera di giunta, abbiamo mandato tutti quanti gli atti al comandante della Polizia Municipale. Torna l'attenzione tra parcheggiatori perché il supporto di due mesi attraverso una disposizione dell'Inps promesso da Foti e dal comandante Arbonio in attesa della nuova gara è stata a loro dire una presa in giro. Da ieri infatti gli ex parcheggiatori sono stati chiamati a ritirare un modulo di domanda per accedere al finanziamento di misure di politica attiva. Un bando regionale, quindi per migliaia di persone, che tra l'altro scade il 30 ottobre. Intanto pare che il comandante Arbonio ha comunicato all'assessore Mele che delle 38 persone finite nella lista di presa in carico, solo due non hanno i requisiti. Per i restanti nella comunicazione, il capo della Polizia Municipale non farebbe alcun riferimento alla famosa disposizione Inps, ma definirebbe idoneo il ricorso al bando regionale fortemente contestato dai parcheggiatori, che alla richiesta di chiarimenti si sarebbero sentiti rispondere Rivolgetevi all'assessore Mele.